Siamo venuti per aver preso omaggio ai caduti nel 75esimo anniversario della strage. 75 anni dalla strage di Portella della Ginestra, i temi di quegli anni oggi sono di grande attualità, dalla lotta alla diseguaglianza, alla giustizia sociale, alla rivendicazione dei lavoratori. Il modo migliore per commemorare è quello di lottare ogni giorno, lottare ogni giorno per una Sicilia più giusta e per un futuro migliore. Non abbiamo mai finito di onorare a dovere i nostri caduti, i nostri morti di Portella della Ginestra. Anche nei due anni di pandemia siamo sempre stati qua per onorare. oggi finalmente riusciamo a farlo con una grande partecipazione perché non è solo un ricordo, è anche un momento per alzare l'attenzione su questo tragico evento, su questa prima strage di Stato per mano mafiosa, per arrivare finalmente ad avere una verità, per dare il giusto tributo alle nostre poveri vittime di questa strage di innocenti. 75 anni ancora qua e lo saremo ancora per tanti e tanti anni. che verranno in futuro perché Portella della Ginestra rappresenta per noi una memoria storica di un fatto, di un eccidio che ricorda quello che succedeva tanti anni fa e dal quale noi attingiamo ancora oggi la forza e la motivazione e la passione per andare avanti. perché purtroppo le mafie esistono ancora, esistono ancora dei disegni di contrasto del mondo del lavoro e noi qui appunto ribadiamo non solo la necessità di continuare ad andare avanti ma prendiamo insegnamento da quello che successe. grazie a tutti.